un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con ritorno alle origini parte seconda come sempre ringrazio moderatori moderatrici gli amici e le amiche del canale i sostenitori e tutti coloro che seguono i miei canali social e se non l'avete ancora fatto come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete oltre link per acquistare giochi scontati molti piattaforma fino al 70% troverete anche i link per seguire i miei canali social e approfitto ancora una volta per ringraziare l'amico jason farmer per avermi suggerito di portare avanti questa serie e infatti per chi non lo sapesse questa serie nasce in farming 19 nella famosissima serie o meglio vecchia serie dalle stalle alle stelle ma in realtà chiedo scusa questa questa serie nasce dalla serie caffè in farm e allora ragazzi detto questo iniziamo questa nuova questa nuova avventura allora ragazzi come avete ben letto dal titolo è arrivato peppe nillo guila chi è chi è chi è allora non so chi ha fatto partire comunque buon pomeriggio a tutti naturalmente quindi stavo dicendo che qui gaspari carissimo buon pomeriggio ten chiuso ma ci facciamo un bello applauso al nostro casparozzo che naturalmente ci viene sempre a trovare allora ragazzuoli andiamo avanti quindi stavo dicendo che per chi non lo sapesse peppe nillo appartiene alla serie dedicata a totò e peppino e quindi quando arriva peppe nillo vuol dire che si fanno un po' di cosa succede sì in realtà ho settato io il ritardo su sui sound alert questi qui quindi non preoccuparti ben tornato carissimo non so se ci siamo sentiti all'inizio di settimana comunque buon fine settimana carissimo e oggi ragazzuoli con il nostro peppe nillo ci andiamo andiamo a mettere un po di lucine un po di addobbi natalissimi e c'è un po sto riscontrando un po di problemucci qui allora nel frattempo ci facciamo una cosa light light quindi andiamo con la nostra peggiottina che vi ricordo se volete nella descrizione del video come sempre trovate un link che è il pacchetto di mod che sto utilizzando in questa ma anche in altre serie che naturalmente non sono presenti nel mod ab ufficiale eccoci qua non preoccuparti caro Gaspari vai tranquillo l'importante è che me ne sono accorto comunque carissimo allora approfittando per ringraziare Maximum Maxim Eurotrack2 per il follow a canale per aver seguito il canale quando ero naturalmente offline e naturalmente approfitto come sempre per salutare e ringraziare tutti coloro che si iscrivono anche a mio canale youtube e dalle statistiche il 90% di voi che guardano questi video non sono follower del canale mi raccomando naturalmente seguire il canale è totalmente gratuito e poi ovviamente lasciate un bel like ai video se vi piacciono ecco qua allora vediamo un pochettino qua dobbiamo mettere un po' di lucine quindi iniziamo iniziamo a vedere un po' cosa dobbiamo mettere ciao a tutti benvenuti a questo video come vedo ogni volta prima di tutto voglio dire grazie a tutti i miei moderatori amici 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 ce l'ho salvata sul browser allora si chiama twitch follower remover ah ok perfetto allora tutto a posto è ottimo è quello che ho utilizzato pure io in un attacco bot che è stato fatto l'anno scorso anzi quest'anno a marzo allora mettiamo innanzitutto andiamo avanti quindi mettiamo un po' di lucine oggi ecco qua ci mettiamo lucine approfitto anche per salutare l'amico moreno underscore vr ma anche il mitico mister ah yeah yeah mister aleasso ecco qua qua spera soltanto di non urtarci sotto con il turbo star ma prenderemo una scorciatoia una short cut salutiamo il mitico guys naturalmente un altro bravissimo streamer ovviamente vi invito anche a passare nel canale del nostro mitico casparozzo e mi raccomando e mi raccomando come dico sempre attivate le campanellozze thank you so much don't forget to follow allora why do you need why do you allora qua dobbiamo mettere l'alberozzo in realtà avevo già fatto una mezza una mezza prova off camera di come decorare ma ho deciso di farlo in live perché mi sembrava anche giusto condividere anche con voi naturalmente questo evento allora qua mi manca l'alberozzo ah forse l'alberozzo sta qui allora qua ci abbiamo anche le bancarelle del mercato di natale belline queste qua poi le metteremo più avanti nel frattempo devo trovare l'alberozzo spero di averlo caricato altrimenti ho fatto una gaffe allora non questi vediamo se riusciamo a trovare che dici caspari riusciamo a trovare l'alberozzo qua ne ho trovato uno carino in un modab esterno ah no no questo qui l'ho trovato scusate in un modab questo qua in un modab ufficiale allora dovrebbe stare verso la fine we will find the christmas tree at the end I hope c'è miseria quante ce ne stanno andiamo un po' mi sa mi sa mi sa che non è questo ma sa ma sa fammi vedere un po' alberi wow l'avevo caricato l'avevo messo proprio appositamente allora vediamo un po' qua edifici wow che gaffe indiretta ragazzi abbiamo fatto una bella gaffe indiretta ma io non ne so convinto però se ne è po' possibile c'è qua allora qua ci sono le luche le luche ah queste sono quelli con i fari spotlights allora andiamo un po' wow era convinto di averlo caricato allora qua decorazioni eccolo qua eh quando uno fa le cose di fretta non le trova mai ecco qua allora qua abbiamo un bel alberozzo voilà allora diamo un attimo una cosa allora cambia modalità libera ok perfetto quindi facendo così non dovrebbe modificare vabbè un po' di modifica l'ha fatta noi ci aggiungiamo un po' di cosa allora questo lo mettiamo qui poi poi un altro lo mettiamo qui tanto qua non ci passeremo né ora né mai con i mezzi ecco qua guardiamo un po' un altro lo metterei qui vabbè non ha modificato tantissimo la modificazione è scettabile ui carissimo moreno e tuz e tuz naturalmente amici e amiche di youtube vi invito a passare nel canale del nostro moreno nazionale ad iscrivervi al suo canale ad attivare le campane lozze mi raccomande allora morino 91 12 ur ecco qua e naturalmente invito a passare nel suo canale lozze facciamo anche uno shootout al nostro caspari che è sempre presente allora e mettiamo ecco qua ok mi dice che devo aspettare ancora un pochettino va bene intanto facciamo un grande applauso ovviamente oh via oh yes oh yes allora ragazzuli oggi c'è Peppe Nielo quindi chi conosce questa serie c'è Peppe Nielo caro caro carissimo moreno e quindi ok noi abbiamo anche la nostra operatrice di centrale naturalmente che ci avvisa che ci avvisa delle situazioni a proposito qua devo mettere qua ci devo mettere un'altra bella illuminazione una bella lucettina all'ingresso del di ui allora decorazioni alla fine siamo riusciti a trovare allora ecco qua questo si potrebbe anche mettere bellissimo wow questo ci va giusto giusto Casperi questo qui ci va giusto giusto ecco qua oh ha fatto il danno vabbè ah no ha livellato un pochettino vabbè ci sta ecco qua stiamo preparando il villaggio qui perché poi ci sarà uno speciale natalozzo è uno speciale il trend 1 vediamo un attimino come organizarci allora mettiamo un altro albero lo mettiamo qui vicino ci ha ricordato anche una vecchia hit hit fra virgolette insomma un vecchio uno dei primi sound alert in realtà questo è stato mi pare il quarto il quinto sound alert che che ho realizzato per i canali degli amici e delle amiche streamer allora quasi quasi questo se lo metto qua beh non è realistico mettiamolo così allora c v mettiamo un po' più così ecco qua oh chissà se alla fine poi questi premi ci daranno cosa succederà eh sì ha chiuso il canale ma diciamo ha chiuso l'attività di streamer ma sicuramente il mitico Jason io poi l'ho contattato proprio ieri per per ringraziarlo di avermi dato l'idea di 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 venire a a rimodernare un pochettino questa serie perché insomma chi è un vecchio frequentatore di questo canale sa che sta serie è nata su farming 19 e quindi gli ho mandato un messaggio eh tramite eh discord per ringraziarlo insomma lui e lui ha ha è stato scusate è stato molto felice di di questa di questa dimostrazione di stima e oltre che eh una dimostrazione di di grande eh amicizie seppur virtuale insomma con lui e quindi lo sicuramente lo lo rivedremo magari lo lo riascolteremo chissà magari più là non con il nick di jason magari con qualche altro nick ma noi sapremo che comunque è la persona ecco che è una persona veramente in gamba ma bu vogliono comunque ovviamente grazie jason thank you thank you mesh una bella battutella di mani per questo è mitico acceso e lui ha chiuso il canale io ho il suo diciamo il suo account privato ma per questione ovviamente di privacy non non posso darvelo comunque se eventualmente voi volete che gli porti i vostri saluti scrivetelo sia a voi amici di twitch ma anche amici di youtube lasciate un messaggio e io sarò ben liete felice di poter dare un po' di dimostrazione di stima nei confronti di questo amico streamer che insomma è un bravissimo streamer molto umile ok moreno tanto sicuramente lo sperando al più presto di rivederlo un pochettino sotto altre spoglie allora qua immetterei un paletto con le lucine che vanno verso il il palazzetto qua oggi si 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 già come dice non si può dire la parola la malparole non si può dire ecco qua anzi quasi quasi questo qua giusto non ci avevo pensato ecco qua a proposito morino ma poi hai visto un po' la come ho rimesso o meglio come ho cercato di mettere il più possibile a posto il salvataggio che mi hai mandato ragazzoli ovviamente se avete i punti canale potete riscattare anche all'iscia cargarozzo mi raccomando soprattutto a pandozzo perché ultimamente lui sta bevendo poca acqua e quindi dobbiamo fargli fare un po' di grazie ragazzoli ci vuole vi dico solo acqua temperatura ambiente ed è fresca molto molto buona allora vediamo un po' qua sulla stalluccia qua io vorrei mettere io vorrei mettere qualche le lucine si le metto magari le metto qui per fare l'arco vediamo un po' facciamo una simulazione eh sì allora qua noi abbiamo anche i cavallozzi a proposito fammi vedere un attimo se devono mangiare che adesso io sta serie ovviamente me la sto portando avanti off camera offline quindi diciamo che sto cercando un pochettino di tenerla sempre un pochettino aggiornata allora questi vabbè i maialozzi ci siamo qua stanno bene allora ragazzi una cosa importante prestate attenzione alle ehm quantitativa di questi cibi qui perché la reazione mista 100% fieno 80% ed è 40% quindi arriviamo al 220% quindi bisogna cercare di non far mancare ehm sia il fieno che l'erba quindi non solo tra razione mista mi raccomando stessa cosa per ehm i cavalli e tutte queste cose qui quindi faccio vedere i cavallozzi abbiamo qui abbiamo 60 più 40 100% ecco qua allora diamo un attimo un'occhiadina quindi come abbiamo fatto ok ok perfetto allora quasi quasi qua qua io gli metterei l'alberozzo almeno dall'esterno così lo metto qui vicino al silos in modo tale che non si vede non vi preoccupate che il pennello ci pensi lui è la guest star della situazione allora alberozzo l'alberozzo non mi sono scordato dove c'è mi sa eccolo qua ok perfetto allora stessa cosa di prima ecco qua abbiamo messo pure un alberozzo qua vicino allora qua abbiamo uh ha bucato il ha bucato il cosa bene no vediamo un po' se lo riusciamo quindi si non ci ho fatto caso ma a quanto pare imbattava con la situazione no 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 good quindi altro ecco iniziate a memorizzare la posizione e quando è così mettiamolo qui quindi tasto v tasto c ecco qua adesso ecco qua tanto 100 però si ce li offre lo zio moreno allora vediamo un po' mi sembra che più o meno allora questo però qua un alberozzo quasi quasi lo metterei si costano relativamente poco e devo essere sincero costicchiano ma poco 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 allora però ah no eventualmente posso anche passare qua sotto ok aspettate un momento io qua devo mettere la garitta muove la garitta ritta ritta muove la garitta mi stavo dimenticando della garitta il garittone questa moda la trovate nel motab ufficiale security fare che si chiama allora mi pare allora edifici vediamo un po' se sta in capannoni no fattorie mi sembra vediamo un po' oggi ci stiamo un po' chettino guardando un'occhiatina a tante cose che non guardate un bel po' di tempo allora silos non penso attrezzi non penso allora sicuramente allora dovrebbe essere decorazioni e altro dovrebbe essere così a questo quando è mod che guarda che io ne ho più me ne sono io credevo di averne poche ma in realtà le mie mod sono parecchie ne ho beh sono parecchie ma sono anche relativamente leggere e ne ho circa 200 però 200 ma io le utilizzo per 4 serie 3 serie 4 serie quindi diciamo che più o meno la maggior parte delle mod le condivido e le ricondivido più o meno tutte le serie però pure è uno scherzo è moreno di realità non poche scena non pochine non poche not less allora vediamo un po' se riusciamo a trovare la carità dove poi ci mettiamo mister morino la fondanozza la faccia però guarda io per esempio io le utilizzo tutte queste mod quindi io per esempio utilizzandole utilizzandole ovviamente non ne le ho come un peso ecco qua abbiamo pure la carità del nostro moreno qua ecco qua un ingresso di lusso ragazzi che solo moreno vi poteva offrire allora comunque si diciamo che la maggior parte di queste mod le utilizzo tutte suddivise in varie serie quindi so più o meno in questa serie le utilizzo tutte tutte le mod incluse quelle lì che non fanno parte del mod hub ufficiale quindi le mod che non utilizzo le elimino dal disco infatti quando termino una serie le mod che se utilizzavo delle mod anche le mod hub ufficiale non non le tengo più allora diamo un'occhiatina allora qua diciamo che un po' più la facciata esterna però questa qua mettiamo un albero un alberozzo mettiamo un altro alberozzo ragazzi perché comunque dalla strada si vede quindi è brutto vedere una parete dovuto oppure vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di interessante vai tranquillo moreno non preoccuparti grazie naturalmente per essere passato non ti preoccupi fai 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 con calma thank you so much my friend oh yes oh yes allora ritorniamo a noi dunque dunque market stall no quasi quasi bel cingerozzo questo è cingerozzo però ci dovrebbe essere qualche altra cosa no queste le mettiamo da qualche altra parte per il momento facciamo così ah comunque moreno ho visto anche la tua serie di quella di ranch amici di youtube naturalmente vi invito a passare e visitare il canale youtube del mitico moreno schiettuzze e tuzze come sempre vi invito a lasciare un bel like a condividere i suoi video mi raccomando e ovviamente andate a seguire anche i canalozzi dell'amico fernbus o fernbus 08 della mitica chiara error 404 il nostro residentissimo la zappastort che proprio ieri sera quindi il l'otto l'otto dicembre è ritornato in live e naturalmente oltre la lista degli streamers che vi consiglio la trovate nella descrizione del canale ma naturalmente come dico sempre seguite i vostri streamers preferiti e se potete supportateli dimmi caspari scusami ma mi sono un attimo distretto mi sono distraggiuto dimmi tutto caro se posso esserti d'aiuto allora credevo di avere attivato la superforza ma in realtà non è così quindi i wallet evidentemente sono leggerosi praticamente e quando il pandozzo che si fa la trincata mette anche lui sorseggia l'acqua fa idratation e così praticamente aumenta di livello il il pandozzo opla facciamo un po' di di movimento logistico a mano oggi oh intanto abbiamo stiamo producendo un bel po' di di cereali però la prossima produzione dovrà essere cioccolato chocolate should be next production ecco qua mi mettiamo di taglio così beh che non devono uscire mezzi però ecco qua allora andiamo un po' ah c'è da spostare il burro narcisso parole di burro eh bella bella domanda allora burro 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 ah il bacco per bacco allora quasi 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 facciamo così il carrellozzo autocaricante ah ma io c'ho il muletto giusto ho cambiato muletto ragazzi ho preso quello lì con le furche che diventano quattro le furche eccolo qua qui si si allarga e possiamo tranquillamente usare il metodo ah yeah yeah ovvero il metodo del mitico Aleasso che saluta naturalmente e vi invito a passare nel suo canalozzo anzi quasi quasi facciamo anche una presentazione al canale allora ecco qua vediamo se riusciamo ecco qua naturalmente il mitico mister ahiaie ovvero mister Aleasso anche un canale youtube che naturalmente vi invito a visitare ad iscrivervi e attivate le campanelle lasciate tanti like ai suoi video e gli lasciamo una bella sbattotella di mani e e voilà anche lui è un altro bravissimo amico streamer allora andiamo a spostare un attimo e ecco questi modulo li metto one moment chiediamo chiediamo un attimo a Peppe Nilla se può darci una mano va bene ci penso io grazie a Peppe Nilla sei mitico allora vediamo un po' vediamo un po' allora bacco per bacco allora silos vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante container 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 no non è qua questi sono allora fattorie no vediamo se sta qua qualcosina let's check check one two three check check allora questo dice questo però è enorme però questo si può mettere si può anche forse l'idea non è male si potrebbe mettere qua mi sembra che non non impatta nemmeno però lo spazio lo spazio è un po' risicato un po' risicato due milioni di due milioni di prodotti non è male anzi parecchio allora questi sono questi sono quelli selettivi questi sono quelli selettivi qualcosa quello era bellino perché queste ah questa è la mitica mod della pizzeria del mitico nick november yankee chilo chilo è il numero tre che naturalmente per chi non lo conoscesse e chi lo conoscesse dubita che non conoscete i mitico nick allora quindi questa però mi dice che questa mod funziona come se fosse un silos e questo mi preoccupa questo mi preoccupa yeah questo è un po' grandicella subito questo 500.000 litri ci faccio ben poco medium medium questo è troppo largo questo no 20 milioni no allora vediamo un po' arrivato a sto punto vediamo un po' com'è la situazione qua ecco qua abbiamo posizionato un piccolo deposito un piccolo allora questo quindi qua funziona come il allora direi dove sta il carellozzo iniziamo a fare una prova spostiamo un po' di di pallet di bacco per bacco questo questo ovviamente parte allora ecco qua perfetto vediamo di spostare un po' i pallet da qua è un po' strettino non abbiamo abbastanza spazio ma proviamo io provo anche io provo provo a fix allora queste mi sa che dobbiamo però vediamo se riusciamo ad agganciarne un paio su due forche differenti questo non è il miti il il metodo alleas o ai ai quindi non è quello il metodo buono spiet che sta mo allora ho capito come forse come lo devo prendere devo acchiapparlo così così ecco qua anche se questo mi scapperò ovviamente tenderà a scivolare sliding doors oppla ora vi faccio vedere una cosa simpatica di questo carellozzo allora adesso vado a prendere il carellino che ho su in farm e vi faccio vedere una cosa una particolarità di questa mod che mi è stata suggerita da salvo farmer ufficiale che saluta naturalmente anzi quasi quasi gli faccio una bella presentazione andiamo un po' se lo rinde ho sbagliato ho sbagliato va bene così salvo farmer ufficiale allora facciamo così a proposta mettiamo anche nel frattempo mettiamo l'operaio a completare il lavoro quindi nel frattempo facciamo così andiamo sulla mappa ecco qua allora dove che l'ho messo dove che ho messo ah sta sotto il sotto il capanno mi confrita allora non utilizzerò l'opzione autocaricante quindi vi farò vedere una chicca per quanto riguarda il la quel muletto ha una caratteristica particolare and now I will show you a different way about one thing you will see I will not use this this mod with with the auto load so you will see a cute thing scendiamo naturalmente non saliamo le feu di direccio quella ecco qui oh c'è bellissimo ok dovremo poter caricare in un certo modo 6.000 litri di materiale ok allora spegniamo qua allora intanto salviamo la partita perché ok lo allora mettiamo 2 per così facciamo passare un po' più velocemente il tempo il tempuccio allora vediamo se riusciamo a caricare frontalmente ora vi faccio vedere una cosa and now I'll show you a thing about this mat I will I will not use at all auto load of the trailer allora vediamo vediamo se fa la stessa cosa no l'ha lasciata così l'ha lasciata oh cacchio l'altra volta me l'ha sistemata fammi vedere un attimo una cosa vabbè stiamo un po' strettini quindi direi qui di utilizzare direttamente l'autocaricante utilizziamo comunque non so forse è stato un caso l'altra scorsa vabbè comunque off camera praticamente off camera mi ha caricato la situazione ho qua pare che abbiamo finito ecco qua stiamo sbucando ok è pieno allora ma qua vabbè noi ci facciamo il girozzo il giro quello classico this is a kind of a christmas tour ovviamente un po' un giro un po' più natalizio com'è che si fa a caricare vediamo un attimo una cosa adesso noi scarichiamo questo facciamo un vero e proprio test della mod attivare il caricamento no ah si lo troviamo in un menu in un menu specifico allora ora vi faccio vedere come usare questo mat o or we will we will see how to use this mat ok ok allora noi dovremmo avere ecco qua no no obiett storage building yet che significa si ma vengo qua se io vengo qui vediamo forse bisogna interagire con qualche altro punto non mi è chiara questa cosa 11000 litri vediamo un po' se c'è qualche avvicina la mappa mostra menu menu del canale maiuscolo no ok questa non l'ho capita vediamo un po' forse sta qua allora vediamo un po' no object storage fatemi sapere se sapete come si utilizza questa questa mod io non l'ho capita allora ragazzi io io approfitto ancora una volta per ringraziare ciao Leo carissimo buonasera a te grazie grazie mille per essere passato a salutarmi allora ragazzuoli io approfitto ancora una volta per ringraziare i moderatori le moderatrici gli amici e le amiche del canale e tutti coloro che stanno seguendo i miei canali social se non l'avete ancora fatto vi ricordo che trovate il link nella descrizione del video per seguirli naturalmente non dimenticate di mettere un bel like al video e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto and so I want to say again thank you so much to my moderators and if you are not a follower of my channels you can do this for free e allora ragazzi grazie a tutti ringrazio ah scusate allora dimenticavo di ringraziare Moreno Gasfari il mitico Leonardo Da Vinci che è passato a salutarmi ringrazio naturalmente ancora una volta Maximum Eurotrack 2 per essersi iscritto al canale naturalmente fatelo anche voi perché è totalmente gratuito e allora grazie mille a tutti thank you so much è stato buono grazie thank you ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti